Una prima indicazione che emerge dai risultati che abbiamo presentato oggi è sicuramente l'aumentato peso delle grandi imprese. Le grandi imprese dal 2011 al 2022 aumentano di oltre due punti percentuali, passando in termini occupazionali dal 27% al 29,3%. E questo, anche se lentamente, è una buona notizia, perché l'aumento del peso occupazionale delle grandi imprese in qualche modo mette in una posizione diversa l'Italia anche rispetto agli altri paesi. Un altro elemento interessante che mi preme segnalare dai dati che abbiamo presentato oggi è sicuramente gli elementi di competitività, i punti di forza che hanno indicato le imprese. Un punto di forza che tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, hanno indicato, è la qualità, sia la qualità del prodotto, sia la qualità delle risorse umane. E questo evidentemente è un segnale, diciamo, positivo ancora per quanto riguarda il nostro sistema di imprese. Per contro, un elemento invece che in qualche modo è utile attenzionare, è relativo agli ostacoli che hanno identificato le imprese rispetto alla possibilità di essere più competitive. E una di queste difficoltà, che è aumentato molto rispetto al passato, è relativo proprio alla difficoltà di acquisire risorse umane, e in particolare di acquisire risorse umane con competenze adeguate. E quindi evidentemente è importante anche segnalare questo aspetto al sistema non solo produttivo, ma al sistema della formazione affinché si renda possibile l'accesso di nuove professionalità in grado di intervenire e coprire quelle che sono le nuove tendenze del sistema produttivo.